Signori e signori, sono felice di dirvi che il signor Paolo sta per esibirsi con una canzone unica nel suo genere. Però in questo caso lo interpretarò io perché è troppo timido per farsi vedere dalla telecamera. Quindi quello che vedrete travestito sono io. Il signor Paolo però si è offerto di cantare, quindi cantare a lui questa canzone. E noi ce la gustiamo tra pochissimo. Vai in onda! Vai in onda! Vai in onda! Vai in onda! Sucutti! Mi son no cagatodoso! Mi son cagatodoso! Vai Maria! Sucutti! Tien! Sucutti! 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 Sucutti!